Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio Juventus, Andrea Agnelli ha scritto agli azionisti in previsione dell'Assemblea in programma il 28 ottobre sotto il profilo economico-finanziario al bilancio 2021-2022 con una perdita di 254 milioni e certamente il momento più amaro. La Juve si appresta ad affrontare il Milan che ad oggi, dati alla mano, è superiore in tutto avendo oltretutto anche affrontato delle squadre più forti sulla carta Udinese, Atalanta e Inter-Napoli a differenza della Juve che ha giocato solo contro la Roma. Domani le assenze potrebbero pesare il Di Maria visto in Champions è un'assenza pesante almeno nelle turnazioni, così come Pogba, ovviamente Chiesa ma anche lo stesso Desciglio che toglie un cambio ad Allegri. Nel Torino invece sono tutti disponibili non era mai successo finora, con il rientro in gruppo di Ricci e Voivoda per la prima volta nella stagione Juric avrà a disposizione l'intera rosa e potrà concedersi l'imbarazzo della scelta contro l'Empoli. Nel ciclismo lo spagnolo Ivan Cortina della Movistar ha vinto il 106esimo trofeo Gran Piemonte alle spalle del 26enne si è piazzato il 4-Club sloveno Matej Mohoric superato negli ultimi metri mentre al terzo posto si è piazzato il francese Alexi Willermoz. Un campo da tennis in piazza Castello a Torino la città si prepara agli ATP Finals dalle esibizioni davanti al Palazzo Reale al programma culturale in piazza Vittorio il comune punta a replicare il successo del modello Eurovision per coinvolgere il grande pubblico. E' tutto grazie per l'ascolto in regia Rosario Perez Zip News Zip News.it Le notizie nel modo più veloce Zip News